Grazie allo stesso, signor Pilchik. Il vitale dottore l'ho già trovato. Lei non è il signor Pilchik. Sono il dottor Jeremy St. Clair. Le posso parlare, signor? Magari un'altra volta. Vada via, non sono in casa. Interessante, signor Widderspoon. Cosa... Che cosa è? Questa? Questa è la sola e unica cosa che impedisce al mondo di fare... Puff! Questa è la sola e unica cosa che è vero... Questa è la sola e unica cosa che fa... Oh Grazie a tutti. Grazie a tutti.